orlando furioso canto ventesimo sesto l'incombenza del mattino seguente contro i maganzesi viene sbrigata con l'appoggio di marfisa che a caso passa da quelle parti viene liberato un paio degli innumerevoli cugini di ricciardetto e uno è malagigi il mago di famiglia poi la compagnia si riposa facendo colazione in un prato accanto a una fonte costruita da merlino malagigi ne illustra le sculture profezie cortigiane sugli attori delle guerre italiane ai tempi dell'ariosto la bestia orrenda che vi compare è un'allegoria della cupidigia di denaro potere il furore uscito da paschi e mandre sono gli svizzeri che lasciano la pastorizia per vendersi come truppe mercenarie il castello già ritenuto inespugnabile e invece preso da francesco primo è il castello sforzesco di milano sopraggiunge all'ancella di bradamante ruggero si allontana con lei per affidarle riservatamente la lettera scritta alla sua padrona la notte precedente canto venticinquesimo e viene informato di come rodomonte si sia impadronito del suo cavallo frontino canto ventitresimo nel frattempo arrivano rodomonte e mandricardo in compagnia di doralice diretti al campo saracino presso parigi canto ventiquattresimo alla vista di marfisa al momento in abito femminile mandricardo progetta di conquistarsela con una giostra a spese dei maschi chi le stanno intorno per cederla a rodomonte in cambio del pacifico possesso di doralice in effetti scavalca ricciardetto e i suoi cugini ma poi scopre che per fare di marfisa una preda di guerra ci vola altro ritorna ruggero e si intreccia il gran concertato di contese e scontri il quale come si vedrà non è che l'allegretto di ouverture all'allegro confuoco del canto successivo la discordia pensa di aver compiuto l'incarico d'atole dall'arcangelo michele canto quattordicesimo era in casa in convento ad aizzare i suoi monacelli gli attaccabrighe e fatati sarebbero ancora a battersi su quel prato se malagigi non ricorresse all'arte sua egli mette un diavolo in corpo al mansueto cavallino di doralice che spicca un incredibile balzo in aria e parte a galoppo sfrenato portandola verso parigi rodomonte e mandricardo la inseguono a briglia sciolta gli impegni di ruggero lo costringono a muoversi nella stessa direzione e marfisa lo accompagna ha sempre sognato di misurarsi coi paladini di francia ed ora ha trovato l'occasione cortesi donne ebbe l'antiqua etade che le virtù non le ricchezze amaro al tempo nostro si ritrovan rade a cui più del guadagno altro sia caro ma quelle che per lor vera bontade non seguon delle più lo stile avaro vivendo degne son d'esser contente gloriosa e immortal poiché fian spente degna d'eterna raude e bradamante che non amò tesor non amò impero ma la virtù ma l'animo prestante ma l'alta gentilezza di ruggero e meritò che ben le fosse amante un così valoroso cavaliero e per piacere a lei facesse cose nei secoli a venir miracolose rugger come di sopra vi fu detto coi due di chiaramonte era venuto dico con al diger con ricciardetto per dare ai due fratei prigioni aiuto vi disse ancora che di superbo aspetto venire un cavaliero avean veduto che portava l'augell che si rinuova e sempre unico al mondo si ritrova come di questi cavaliers accorse che stavano per ferir qui di sulale in prova disegnò di voler porse sa la sembianza avean virtude uguale e di voi disse loro alcuno forse che provar voglia che di noi più vale ai colpi o della lancia o della spada fin che l'un resti in sella e l'altro cada farei disse al diger teco o volessi menare la spada a cerco o correr rasta ma un'altra impresa che se qui tu stessi veder potresti questa in modo guasta che a parlar teco non che ci traessi a correr giostra appena tempo basta seicento uomini al varco o più attendiamo coi qua ad oggi provarci obbligo abbiamo per tor l'orduo dei nostri che prigioni qui ci trarran pietà de amor na mosso e seguitò narrando le cagioni che li fece venir con l'arma indosso si giusta e questa è scusa che m'opponi disse guerrier che contrarir non posso e fo certo giudicio che voi siate tre cavalier che pochi pari abbiate io chiedeo un colpo due con voi scontrarme per vedere quanto fosse il valore vostro ma quando all'altrui spese dimostrarme lo vogliate mi basta è più non giostro vi prego ben che pur con le vostre arme quest'elmo io possa e questo scudo nostro e spero dimostrar se con voi venio che di tal compagnia non sono indegno parmi veder che alcun saperdesia il nome di costui che qui vi giunto a Ruggero a compagni si offerì a compagno d'arme al periglioso punto costei non più costui detto vi sia era marfisa che diede l'assunto al misero derbin della ribalda vecchia gabrina ad ogni mal si calda i due di chiaramonte il buon Ruggero l'accettare volentieri nella loro schiera che esser crediano certo un cavaliero e non donzella e non quella che la era non molto dopo scopersi al digero e veder fei compagni una bandiera che facea Laura tremolare in volta e molta gente intorno aveva raccolta e poi che più loro fur fatti vicini e che meglio notare l'abito moro conobbero che gli erano saracini e videro i prigioni in mezzo a loro legati e tratti su piccol ronzini ai maganzesi per cambiarli in oro disse Marfisa agli altri ora che resta poiché son qui di cominciare la festa Rugger rispose gli invitati ancora non ci son tutti e manca una gran parte gran ballo sa parecchia di fare ora e perché sia solenne usiamo ogni arte ma a far non può norma e lunga dimora così dicendo vengono in disparte venire i traditori di Maganza se che erano presso a cominciare la danza giungean dall'una parte i maganzesi e conducian con loro i muli carchi d'oro e di vesti ed altri ricchi arnesi dall'altra in mezzo a lance spade e tarchi veniando lenti i due germani presi e si vedeano essere attesi ai varchi e Bertolagi empio e nemico loro udian parlar col capitano Moro né di Buovo il figliol né quel damone veduto il maganzese indugiar puote la lancia in resta l'uno e l'altro pone e l'uno e l'altro il traditor per quote l'un gli passa la pancia e il primo arcione e l'altro il viso per mezzo le gote così n'andasser pur tutti i malvagi come a quei colpi n'andò Bertolagi Marfisa con Ruggero a questo segno si muove e non aspetta altra trombetta né prima rompe l'arrestato legno che tre l'un dopo l'altro in terra getta dell'asta di Rugger fu il pagan degno che guidò gli altri e uscì di vita in fretta e per quella medesima con lui uno ed un altro andò nei regni bui di qui nacque un error tra gli assaliti che lor causò lor ultima ruina da un lato i maganzesi esser traditi crede anzi dalla squadra saracina dall'altro i mori in tal modo feriti l'altra schiera chiamavano assassina e tra lor cominciar con fiera clade a tirare archi e a menar lance e spade salta ora in questa squadra ed ora in quella Ruggero e via ne toglie or dieci or venti altri tanti per mande la donzella di qua e di là ne son scemati e spenti tanti si vengono in giro morti di sella quanti ne toccano le spade taglienti a cui dagli elmi e le corazze loco come nel bosco i secchi legni al fuoco se mai d'aver veduto vi raccorda o rapportato va a fama all'orecchie come allor che il collegio si discorda e vansi in aria a far guerra le pecchie entri fra lor la rondinella ingorda e mangi e uccida e guastine parecchie dovete immaginar che similmente rugger fosse e marfisa in quella gente non così Ricciardetto e il suo cugino fra le due genti variava andanza perché lasciando il campo saracino soltene all'occhio all'altro di maganza il fratello di Rinaldo Paladino con molto animo avea molta possanza e qui vi raddoppiardi e la facea l'odio che contro i maganzesi avea facea apparir questa medesma causa un leon fiero e il bastardo di buovo che con la spada senza indugio e pausa fende ogni elmo o lo schiaccia come un ovo e qual persona non seria stata ausa non seria comparito da un etor nuovo marfisa avendo in compagnia e ruggiero che era la scelta e il fior d'ogni guerriero marfisa tutta volta combattendo spesso ai compagni gli occhi rivoltava e di loro forza paragon vedendo con maraviglia tutti li lo dava ma di ruggere pur il valor stupendo e senza pari al mondo le sembrava e tolorsi credea che fosse marte sceso dal quinto cielo in quella parte mirava quelle orribili percosse miravale non mai calare in fallo parea che contra palisarda fosse il ferro carta e non duro metallo gli elmi togliava e le corazze grosse e gli uomini fendea fin sul cavallo e li mandava in parte uguale al prato tanto dall'un quanto dall'altro lato continuando la medesma botta uccidea col signore il cavallo anche i capi dalle spalle alzava in frotta e spesso i busti dipartia dall'anche cinque e più a un colpo ne tagliò talotta e se non che pur dubito che manchi credenza al ver ca faccia di menzogna di più direi ma di men dir bisogna il buon turpin che sa che dice il vero e lascia creder poi quel che all'uom piace narra mirare il cose di rugero cudendolo il direste voi mendace così così parea di ghiaccio ogni guerriero contra marfisa e della ardente face e non men dirugger gli occhi a sé trasse che la di lui l'alto valor mirasse e e se la lui marte stimato avea stimato egli avria lei forse bellona se perdonna così la conoscea come parea il contrario alla persona e forse emulazione tra lor nascea per quella gente misera non buona nella cui carne e sangue e nervi e tossa fan prova chi di loro abbia più possa bastò di quattro l'animo il valore a far con campo e l'altro andasse rotto non restava arme a chi fuggia migliore che quella che si porta più di sotto beato chi il cavallo a corridore chi in prezzo non è qui vi ambio né trotto e chi non ha destrier qui vi sa vede quanto il mestier dell'arme è tristo a piede riman la preda il campo ai vincitori che non è fanto mulattier che resti la ma ganzesi e qua fuggono i mori quei lasciano i prigion le somme questi furon si e più coi cori ma la gigi e viviano a scioglier presti non fur men diligenti a sciorre i paggi e por le somme in terra e carriaggi oltre una buona quantità d'argento che in diverse vasella era formato ed alcun muliebre vestimento di lavoro bellissimo fregiato e per stanze reali un paramento d'oro e di seta in fiandra lavorato ed altre cose ricche in copia grande fiaschi di vin trovar pane e vivande al trar degli elmi tutti vider come avevano dato aiuto una donzella fu conosciuta all'aure crespe chiome ed alla faccia delicata e bella l'onora molto e pregano che il nome di gloria degno non nasconda ed ella che sempre tra gli amici era cortese a dar di sé notizia non contese non si ponno saziar di riguardarla che tal vista l'avea nella battaglia sol mirella rugger sol con lui parla altri non prezza altri non par che vaglia vengono i servi intanto ad invitarla coi compagni a goder la vetto vaglia caparecchiata avean sopra una fonte che difendea dal raggio estivo un monte era una delle fonti di merlino delle quattro di Francia da lui fatte d'intorno cinta di bel marmo fino lucido e terzo e bianco più che latte quivi d'intaglio col lavor di vino avea merlino immagini di tratte direste che spiravano e se prive non fossero di voce che eran vive quivi una bestia uscir della foresta parea di crudel vista odiosa e brutta cavea l'orecchie d'asino e la testa di lupo e i denti e per gran fame asciutta branca avea di leon l'altro che resta tutto era volpe e parea scorrere tutta e francia e italia e spagna e t'inghilterra l'europa e l'asia e al fin tutta la terra per tutto avea genti ferite e morte la bassa plebe e i più superbi capi anzi nuocer parea molto più forte a re a signori a principi a satrapi peggio facea nella romana corte che avea uccisi cardinali e papi contaminato avea la bella sede di pietro e messo scandal nella fede par che dinanzi a questa bestia orrenda cada ogni muro ogni ripar che tocca non si vede città che si difenda se l'apre incontra ogni castello e rocca par che gli honor divini anco se stenda e sia adorata dalla gente sciocca e che le chiavi s'arroghi da bere del cielo e dell'abisso in suo potere poi si vedea d'imperiale all'oro cinto le chiome un cavalier venire con tre giovini a par che i gigli d'oro tessuti avea nel loro real vestire e con insegna simile con loro parea un leon contra quel mostro uscire avea loro nomi chi sopra la testa e chi nel lembo scritto della vesta l'un che avea fino a l'elsa nella pancia la spada immersa alla maligna fera francesco primo avea scritto di francia massimiliano da austria apparse coera e carlo quinto imperatore di lancia avea passato il mostro alla gorgera e l'altro che distragli fige il petto l'ottavo enrico d'inghilterra e detto decimo a quel leon scritto sul dosso col brutto mostro identia nell'orecchi e tanto l'ha già travagliato e scosso che vi sono arrivati altri parecchi parea del mondo ogni timor rimosso e in emenda degli errori vecchi nobil gente accorrea non però molta onde alla belva era la vita tolta i cavalieri stavano e marfisa con desiderio di conoscere questi per le cui mani era la bestia uccisa che fatti avea tanti luoghi atri e mesti avenga che la pietra fosse incisa dai nomi lor non erano manifesti si pregavan tra lor che se sapesse l'istoria alcuno agli altri la dicesse voltò viviano a malagigi gli occhi che stava a udire e non facea lor motto a a a disse narrarli storia tocchi che serne dei per quel chiovegg adotto chi son costor che consa e test occhi e lance a morte all'animal condotto rispose malagigi non è storia di cabbi autor fin qui fatto memoria sappiate che costor che qui scritto hanno nel marmo i nomi al mondo mai non furo ma fra settecento anni vi saranno con grande onor del secolo futuro merlino il sabio incantator britanno fe far la fonte al tempo del re arturo e di cose che al mondo hanno a venire la fe da buoni artifici scolpire questa bestia crudele uscì del fondo dell'onferno a quel tempo che fur fatti alle campagne i termini e fu il pondo trovato e la misura e scritti i patti ma non andò a principio in tutto il mondo di sé lasciò molti paesi intatti al tempo nostro in molti lochi sturba ma i popolari offende e la vilturba dal suo principio in fino al secolo nostro sempre cresciuto e sempre andrà crescendo sempre crescendo a lungo andar fiel mostro il maggior che mai fosse e lo più orrendo quel fiton che per carte e per inchiostro so che fosse orribile e stupendo alla metà di questo non fu tutto né tanto abominevol né si brutto farà strage crudel né sarà loco che non guasti contamini e infetti e quanto mostra la scultura è poco dei suoi nefandi abominosi effetti al mondo di gridar merce giarroco questi dei quali nomi abbiamo letti che chiari splenderanno più che piropo verranno a dare aiuto al maggior uopo alla fera crudele il più molesto non sarà di francesco il re de franchi e ben convien che molti acceda in questo e nessun prima e pochi n'abbia fianchi quando in splendor real quando nel resto di virtù farà molti parer manchi che già parver compiuti come c'è detosto ogni altro splendor che il sol si vede l'anno premier del fortunato regno non ferma ancora ben la corona in fronte passerà l'alpe e romperà il disegno di chi all'incontro avrà occupato il monte da giusto spinto e generoso sdegno che vendicate ancora non sia nolonte che dal furor da paschi e mandre uscito l'esercito di Francia avrà patito e quindi scenderà nel ricco piano di Lombardia col fior di Francia intorno e si del vezzo spezzerà che in vano farà mai più pensier d'alzare il corno con grande e della chiesa e dell'ispanocampo e del fiorentin vergogna e scarno espugnerà il castel che prima stato sarà non espugnabile stimato sopra ogni altra arme ad espugnarlo molto più gli varrà quella onorata spada con la qual prima avrà di vita tolto il monstro corruttor d'ogni contrada convien chinanzi a quella sia rivolto in fuga ogni stendardo o a terra vada né fossa né ripar né grosse mura possan da lei tener città sicura questo principe avrà quanta eccellenzia aver felice imperator mai debbia l'animo del gran cesar la prudenza di chi mostrolla a trasimeno e a trebbia con la fortuna d'alessandro senza cui saria fumo ogni disegno e nebbia sarassi liberal che io lo contemplo qui non aver né paragon né esempio così diceva malagigi e messe desiria cavalier da aver contezza del nome d'alcun altro che uccidesse l'infernal bestia uccider gli altri avezza quindi un bernardo tra primi si lesse che merlin molto nel suo scritto apprezza fiannota per costui dice a bibiena quanto fiorenza sua vicina e siena non mette piede inanzi ivi persona a sismondo a giovanni a ludovico un gonzaga un salviati un daragona ciascuno al brutto mostro aspro nemico ve francesco gonzaga ne abbandona le sue vestigie il figlio federico et'ha il cognato e il genero vicino quel di ferrara e quel duca d'urbino dell'un di questi il figlio guido valdo non vuol che il padre o caldri ha dietro il metta con otobon dal flisco sinivaldo caccia la fera e van di pari in fretta luigi da gazzolo il ferro caldo fatto nel collo le ha d'una saetta che con l'arco gli die febo quando anco marte la spada sua gli messe al fianco duo erculi due ippoliti da este un altro ercule un altro ippolito anco da gonzaga de medici le peste seguon del mostro e l'han cacciando stanco né giuliano al figliol né parchereste ferrante al fratel dietro né che manco andrea doria sia pronto né che lassi francesco sforza chi vi uomo lo passi del generoso illustre e chiaro sangue d'avalo vi son due camperinsegna lo scoglio che dal capo ai piedi d'angue parche l'empio tifeo sotto si tegna non non è di questi due per fare sangue l'orribil mostro chi pienanzi vegna l'uno francesco di pescara invitto l'altro alfonso del vasto ai piedi ha scritto ma con salvo ferrante ove ho lasciato l'ispagno nor che intanto pregio vera che fu da malagigi silodato che pochi il pareggiare di quella schiera guglielmo si vedea di mon ferrato fra quei che morto avean la brutta fera e c'eran pochi verso gli infiniti che lavavea chi morti e chi feriti in giochi onesti e parlamenti lieti dopo mangiare spesero il caldo giorno colcati su finissimi tappeti tra gli arbuscelli onde rinrico adorno ma la gigi e vivian perché quieti più fosse gli altri tenè allarme intorno quando una donna senza compagnia vider che verso lor ratto venia questa era quella in palca a cui fu tolto frontino il bon destier da rodomonte l'avea all'inanzi e l'ha seguito molto pregandolo ora ora dicendogli onte ma non giovando avea il cammin rivolto per ritrovar ruggero e nagri smonte tra via le fu non so già come detto che qui vi il troveria con ricciardetto e perché il luogo ben sapea che vera stata altre volte se ne venne al dritto alla fontana ed in quella maniera ve lo trovò chi ovò di sopra scritto ma come buona e cauta messaggera che sa meglio seguir che non le ditto quando vide il fratel di bradamante non conosce rugger fece sembiante ricciardetto tutta rivoltosse siccome drittamente a lui venisse e quel che la conobbe se le mosse incontra e domandò dove negisse ella che ancora avea le luci rosse del pianger lungo sospirando disse ma disse forte a ciò che fosse espresso a ruggero il suo dir che gli era presso mi traea dietro disse per la briglia come imposto ma vea la tua sorella un bel cavallo e buono a maraviglia che la molto ama e che frontino appella e l'avea tratto più di trenta miglia verso marsiglia ove venire debbe ella fra pochi giorni e dove ella mi disse che io l'aspettassi finché vi venisse era si baldanzoso in creder mio che io non stimavo alcun di corsi saldo che me l'avesse a tor dicendogli io che era della sorella di rinaldo ma vano il mio disegno ieri muscio che me lo tolse un saracin ribaldo né per udir di chi frontino fusse a volermelo rendere si indusse tutto ieri ed oggi l'ho pregato e quando ho visto uscir prieghi minacce in vano maledicendol molto e bestemmiando l'ho lasciato di qui poco lontano dove il cavallo e sé molto affannando s'aiuta quanto può con l'arma in mano contro un guerrier che in tal travaglio il mette che spero cabbia far le mie vendette ruggero quel parlar salito in piede che aveva potuto appena il tutto udire si volta a Ricciardetto e per mercede premio e guidardon del ben servire rieghi aggiungendo senza fin gli chiede che con la donna solo il lasci gire tanto che il saracin gli sia mostrato che a lei di mano è il bondestrier levato a Ricciardetto ancorché discortese il concedere altrui troppo paresse di terminarle a sé debite imprese al voler di rugger pur si rimesse e quel licenzia dai compagni prese e con Ippalca a ritornarsi messe lasciando a quel che rimanean stupore non meraviglia pur del suo valore poiché dagli altri allontanato alquanto Ippalca lebbe gli narrò che adesso era mandata da colei che tanto avea nel cuore il suo valore impresso e senza fingere più seguitò quanto la sua donna al partir le avea commesso e che se di anzi avea altrimenti detto per la presenza fu di Ricciardetto disse che chi le avea tolto il destriero ancor detto l'avea con molto orgoglio perché so che il cavallo è di Ruggero più volentier per questo te lo toglio se gli riacquistarlo avrà pensiero fagli saper casconder non gli voglio io son quel rodomonte il cui valore mostra per tutto il mondo il suo splendore ascoltando Ruggero mostra nel volto di quanto sdegno acceso il coglie sia sì perché caro avria frontino molto sì perché venia il dono onde venia sì perché in suo dispregio gli par tolto vede che biasmo e disonogli fia se tollo rodomonte non sa fretta e sopra lui non fa degna vendetta la donna Ruggero guida e non soggiorna che porlo brama col pagano a fronte e giunge ove la strada fa due corna l'un va giù al piano e l'altro va su al monte e questo e quel nella vallea ritorna dove l'avea lasciato rodomonte aspra ma breve era la via del colle l'altra più lunga assai ma piana e molle il desiderio che conduce il palco ad aver frontino e vendicarlo il traggio fa che il sentiero della montagna calca onde molto più corto era il viaggio per l'altra intanto il re dal ger cavalca col tartaro e con gli altri che detto agio aggiunge il piano la via più facile tiene né con Ruggero ad incontrarsi viene già sono le loro querele differite finché soccorso ad aggramante sia questo sapete e tanto ogni loro lite la cagione d'oralice in compagnia ora il successo dell'istoria udite alla fontana e la loro dritta via dove al diger marfisa ricciardetto malagigi e vivian stanno a diletto marfisa a pieghi dei compagni avea veste da donna e tornamenti presi di quelli che a lanfusa si credea mandare il traditore de maganzesi e ben che veder raro si solea senza lo sbergo e gli altri buoni arnesi pur quel dì se li trasse e come donna a prieghilor lasciò vedersi in gonna tosto che vede il tartaro marfisa per la credenza c'ha di guadagnarla in ricompensa in cambio ugual s'avisa di doralice a rodomonte darla siccome amor si regga questa guisa che venderla sua donna o permutarla possa l'amante né ragion satrista se quando una ne perde una acquista per dunque provvedegli di donzella a ciò per sé quest'altra si ritegna marfisa gli parla giadra e bella ed ogni cavalier femina degna come abbia d'aver questa come quella subito cara a lui donar disegna e tutti i cavalier che con lei vede a giostra seco e battaglia chiede ma la gigi e vivian che l'arme aveano come per guardia e sicurtà del resto si mossero dal luogo dove sediano l'un come l'altro alla battaglia presto perché giostrà con la menduo credeano ma l'african che non venia per questo non ne fe segno o movimento alcuno sicché la giostra restò lor contra uno viviano il primo e con gran cor si muove e nel venire abbassa un'asta grossa e il re paganda le famose pruove dall'altra parte viene con maggior possa dirizza l'uno e l'altro e segna dove crede meglio fermar l'aspra percossa viviano in darno all'elmo il pagano fere che non lo fa piegar non che cadere il re pagano che avea più l'asta dura fe lo scudo a vivian parer di ghiaccio e fuor di sella in mezzo alla verdura alle erbe ai fiori il fe cadere in braccio vien malagigi e ponzi in avventura di vendicare il suo fratello avaccio ma poi d'andagli appresso ebbe tal fretta che gli fa compagnia più che vendetta l'altro fratel fu prima del cugino con l'arma indosso e sul destier salito e disfidato contro il saracino venne a scontrarlo a tutta briglia ardito risonò il colpo in mezzo all'elmo fino di quel pagano sotto la vista un dito volò al cellasta in quattro tronchi rotta ma non mosse il pagano per quella botta il pagano ferì lui dal lato manco e perché il colpo fu con troppa forza poco lo scudo e la corazza manco gli valse che saprì come una scorza passò il ferro crudel l'omero bianco piegò al diger ferito appoggia e ad orza tra fiori e terbi al fin si vide a volto rosso sull'arme e palido nel volto con molto a dirvi a Ricciardetto appresso e nel venire arresta Sigra a Lancia che mostra ben come ha mostrato spesso che degnamente è paladin di Francia ed al pagano ne facea segno espresso se fosse stato pari alla bilancia ma sozzopra l'andò perché il cavallo gli cadde addosso e non già per suo fallo poich'altro cavalier non si dimostra calpagan per giostrar volti la fronte pensa aver guadagnato della giostra la donna e venne a lei presso alla fonte e disse damigella sete nostra s'altri non è per voi chi insella monte non potete negare né farne scusa che di ragion di guerra così susa marfisa alzando con un viso altiero la faccia disse il tuo parer molto erra io ti concedo che diresti il vero che io sarei tua per la ragion di guerra quando mio signor fosse o cavaliero alcun di questi cagitato in terra io sua non son né d'altri son che mia dunque me tolga a me chi mi desia so scudo e lancia ad operare anch'io e più di un cavaliero in terra opposto datemi l'arme disse e il destier mio agli scudier che l'ubbidiron tosto trasse la gonna ed in farsetto uscio e le belle fattezze e il ben disposto corpo mostrò in ciascuna sua parte fuor che nel viso assimiliava a Marte poiché fu armata la spada si cinse e sul destier montò d'un legger salto e qua e là tre volte più lo spinse e quince quindi fe girare in alto e poi sfidando il saracino strinse la grossa lancia e cominciò l'assalto tal nel campo trojan pentesilea contro il tessalo Achille e serdovea le lance infino al calce si fiaccaro a quel superbo scontro come vetro ne per occhi le corsero piegaro che si notasse un dito solo addietro Marfisa che volea conoscere chiaro sa più stretta battaglia simil metro le serverebbe contro il fier pagano se gli rivolse con la spada in mano poste mio il cielo e gli elementi il crudo pagan poiché restar la vida in sella e là che gli pensò romper lo scudo non men sdegnosa contro il ciel favella già l'uno e l'altro ha in mano il ferro nudo e sulle fatalarme si martella larme fatali amparimente intorno che mai non bisognar più di quel giorno si buona è quella piastra e quella maglia che spada o lancia non la taglia o fora sicché poteva seguire l'aspra battaglia tutto quel giorno e l'altro appresso ancora ma Rodomonte in mezzo l'or si scaglia e riprende il rival della dimora dicendo se battaglia pur far vuoi finiala cominciata oggi fra noi facemmo come sai triegua compatto di dar soccorso alla milizia nostra non debbiamo prima che sia questo fatto incominciare altra battaglia o giostra india marfisa riverente in atto si volta e quel messaggio le dimostra e le racconta come era venuto a chiederlor per aggramante aiuto la priega poi che le piaccia non solo lasciare quella battaglia o differire ma che voglia in aiuto del figliolo del re trojan con essi lor venire onde la fama sua con maggior volo potrà far meglio infino al ciel salire che per querela di poco momento dando a tanto disegno impedimento marfisa marfisa che fu sempre disiosa di provare quei di carlo a spada e a lancia ne l'avea indotta a venire altra cosa di si lontana regione in francia se non per esser certa se famosa lor rominanza era per vero o ciancia tosto d'andar con lor partito prese che da gramante il gran bisogno intese ruggiero in questo mezzo avea seguito indarno i palca per la via del monte e trovò giunto all'oco che partito per altra via se n'era rodomonte e pensando che lungi non era ito e che il sentiero tenea dritto alla fonte trottando in fretta dietro gli venia per l'orme che eran fresche in sulla via volse che i palca a montalbano pigliasse la via cuna giornata era vicino perché se la fontana ritornasse si torria troppo dal dritto cammino e disse a lei che già non dubitasse che non s'avesse a ricovrar frontino ben le farebbe a montalbano o dove ella si trovi o di ritosto le nuove e le diede la lettera che scrisse in agris monte e che si portò in seno e molte cose a bocca anco le disse e la pregò che le scusasse appieno nella memoria i palca il tutto fisse prese licenzia e voltò il palafreno e non cessò la buona messaggera che in montalbano si ritrovò la sera seguì a ruggero in fretta il saracino per l'orme capparia nella via piana ma non lo giunse prima che vicino con mandricardo il vide alla fontana già promesso sa via anche per camino l'un non farebbe all'altro cosa strana né finch'al campo si fosse soccurso a cui Carlo era appresso a porre il morso qui vi giunto rugger frontin conobbe e conobbe per lui chi addosso gli era e sulla lancia fe le spalle gobbe e sfidò l'african con voce altiera Rodomonte quel dì fe più che iobbe poi chiedomò la sua superbia fiera e ricusò la pugna che avea osanza di sempre egli cercar con ogni istanza il primo giorno e l'ultimo che pugna mai ricusasse il re dal ger fu questo ma tanto il desiderio che si giugna in soccorso al suo re gli pare onesto che se credesse ver ruggerne l'ugna più che mai lepre il pardo e snello e presto non se vorria fermar tanto colui che fessi un colpo della spada o due aggiungi che sapea che era ruggero che seco per frontin facea battaglia tanto famoso che altro cavaliero non è capar di lui di gloria saglia l'uomo che bramato ha di saper per vero esperimento quanto in arme vaglia eppur non volse coaccettare l'impresa tanto l'assedio del suo re gli pesa trecento miglia sarebbe ito e mille se ciò non fosse a comperare tallite ma se l'avesse oggi sfidato Achille più fatto non avria di quel cudite tanto a quel punto sotto le faville le fiamme avea del suo furor sopite narra Rugger perché pugna rifiuti e tanco il priega che l'impresa aiuti che facendol farà quel che fardeve al suo signore un cavalier fedele sempre che questo assedio poi si leve avrà ben tempo da finir querele Rugger rispose a lui mi sarà lieve differir questa pugna finché delle forze di carlo si traggia a gramante purché mi rendi il mio frontino enante se di provarti che hai fatto gran fallo e fatto hai cosa indegna ad un uom forte d'aver tolto una donna al mio cavallo vuoi che io prolunghi finché siamo in corte lascia frontino e nel mio arbitrio dallo non pensare altrimenti che io sopporte che la battaglia qui tra noi non segua o che io ti faccia soldunora triegua mentre Ruggero all'African domanda o frontino o battaglia allora allora e quello in lungo e l'uno l'altro manda ne vuol dare il destrier ne far dimora ma Andricardo ne viene da un'altra banda e mette in campo un'altra lite ancora poiché vede Ruggero che per insegna porta l'Augell che sopra gli altri regna nel campo azzur l'aquila bianca avea che dei troiani fu l'insegna bella perché Ruggero origine traea dal fortissimo Ettore portava quella ma questo mandricardo non sapea ne vuol patire e grande ingiuria appella che nello scudo un'altro debba porre l'aquila bianca del famoso Ettore portava mandricardo similmente l'augell che rapini da ganimede come vulcano avea già date al cavaliere troiano altra volta a battaglia erano stati mandricardo e Rugger solo per questo e perché caso fossero distornati io non dirò che già aveva manifesto dopo non si era mai più raccozzati se non qui di ora e mandricardo presto visto lo scudo alzò il superbo grido minacciando e Rugger disse io ti sfido tu la mia insegna temerario porti né questo è il primo di che io te l'ho detto e credi pazzo ancor che io te il comporti per una volta che io te ebbi rispetto ma poi che né minacce né conforti ti pon questa follia levar dal petto ti mostrerò quanto miglior partito t'era d'avermi subito ubbidito come ben riscaldato arrido legno a piccol soffio subito s'accende così s'avvampa di Ruggerlo sdegno al primo motto che di questo intende ti pensi disse farmi stare al segno perché quest'altro ancor meco contende ma mostrerò tico son buon per torre frontino a lui lo scudo a te d'etorre un'altra volta pur per questo venni teco a battaglia e non è gran tempo anco ma ad ucciderti allora mi contenni perché tu non avevi spada al fianco questi fatti saranno quelli furcenni e mal sarà per te quella ugel bianco che antico insegna è stata di mia gente tu te l'usurpi io il porto giustamente anzi tu usurpi tu l'insegna mia rispose mandricardo e trasse il brando quello che poco innanzi per follia avea gittato alla foresta orlando il buon roger che di sua cortesia non può non sempre ricordarsi quando vide il pagan che avea tratto la spada lasciò cadere la lancia nella strada e tutto un tempo balisarda stringe la buona spada e me lo scudo in braccia ma l'africano in mezzo il destiere spinge e marfisa con lui prestasi caccia e l'un questo e l'altro quel respinge e pregano a mendui che non si faccia prodomonte si duol che rotto il patto due volte a mandricardo che fu fatto prima credendo da questa marfisa fermato sera far più d'una giostra pur per privar roggiare d'una divisa di curar poco il re agramante mostra seppur dicea dei fare a questa guisa finian prima tra noi la lite nostra conveniente e più debita assai calcuna di queste altre che prese hai con tal condizion fu stabilita la triegua e questo accordo che fra noi come la pugnateco avrò finita poi del destrier risponderò a costui tu del tuo scudo rimanendo in vita la lite avrai da terminare con lui ma ti darò da far tanto mi spero che non avanzarà troppo a ruggiero la parte che ti pensi non avrai rispose mandricardo a rodomonte io te ne darò più che non vorrai e ti farò sudar dal pià la fronte e me ne rimarrà per darne assai come non manca mai l'acqua del fonte e a ruggiero e a mill'altri seco e a tutto il mondo che la voglia meco moltiplicavan lire le parole quando da questo e quando da quel lato con rodomonte e con ruggier la vuole tutto in un tempo ruggier col traggio sopportar non suole non vuol più accordo anzi litigio e piato marfisor va da questo or da quel canto per riparare ma non può sola tanto come il villan se fuor per l'alte sponde trapela il fiume e cerca nuova strada pretoloso a vietar che non affonda i verdi paschi e la sperata biada chiude una via et un'altra e si confonde che se ripara quinci che non cada quindi vede la sagli argine molli e fuor l'acqua spicciar con più rampolli così mentre ruggiero e mandricardo e rodomonte son tutti sozzopra con un vuol dimostrarsi più gagliardo e dai compagni rimaner di sopra marfisa da chetarli ave riguardo e sa fatica e perde il tempo e l'opra che come ne spicca uno e lo ritira gli altri due risalir vede con ira marfisa che volea poi gli d'accordo dicea signori udite il mio consiglio differire ogni dita è buon ricordo finca gramante sia fuor di periglio sognun vuole al suo fatto essere ingordo anch'io comandricardo mi ripiglio e vuo vedere al fin se guadagnarmi come egli ha detto è buon per forza darme ma se si le soccorrere aggravante soccorrasi e tra noi non si contenda per me non si starà ad andare in ante disse ruger purché il destier si renda o che mi dia il cavallo a far di tanto una parola o che da me il difenda o che qui morto da restare o che io in campo ho da tornare sul destier mio rispose Rodomonte ottenere questo non fia così come quell'altro lieve e seguitò dicendo io ti protesto che s'alcun danno il nostro re riceve fia per tua colpa io per me non resto di fare a tempo quel che far si deve Ruggero a quel protesto poco bada ma stretto dal furore stringe la spada al re dal ger come cingial si scaglia e l'urta con lo scudo e con la spalla e in modo lo disordine sbarraglia che fa che d'una staffa il pie gli falla mandricardo gli grida o la battaglia differisci Ruggero o me co falla e crudele fellon più che mai fosse Rugger su l'elmo in questo dir percosse fin sul collo a destrier Rugger si inchina né quando vuosi rilevar si puote perché gli sopraggiunge la ruina del figlio d'Urien che lo percuote se non era di tempra da mantina fesso l'elmo gli avria fin tra le gote apre Rugger le mani per l'ambascia e l'una il fren l'altra la spada lascia se lo porta il destrier per la campagna dietro gli resta in terra balisarda marfisa che quel lì fatta compagna segliera d'arme parca van pietarda che solo fra quei duo così rimagna e com'era magnanima e gagliarda si drizza mandricardo e col potere cavea maggior sopra la testa il fiere rodomonte a Rugger dietro si spinge vinto e frontin su un'altra glina picca ma ricciardetto con vivian si stringe e fra Ruggero e saracin si ficca l'uno urta Rodomonte e lo rispinge ed a Rugger per forza lo dispicca l'altro la spada sua che fu viviano pone a Rugger già risentito in mano tosto che il buon Ruggero in se ritorna e che vivian la spada gli appresenta a vendicar l'ingiuria non soggiorna e verso il re dal ger ratto s'avventa come il leon che tolto su le corna dal bue sia stato e che il dolor non senta si sdegno e tira timpeto la fretta stimola e sferza a far la sua vendetta Rugger sul capo al saracin tempesta e se la spada sua si ritrovasse che come ho detto al cominciar di questa pugna di man gran fellonia gli trasse mi credo che a difendere la testa di rodomonte l'elmo non bastasse l'elmo che fece il re far di babelle quando muover pensò guerra alle stelle la discordia credendo non potere altro esser quivi che contese il risse ne vi dovesse mai più luogo avere o pace o triegua alla sorella disse comai sicuramente a rivedere i monachetti suoi se covenisse lasciarle andare e stia a noi dove in fronte Ruggero avea ferito rodomonte fu il colpo di Ruggerdi si gran forza che fece in sulla groppa di frontino per cuoter l'elmo e quella dura scorza di che avea armato il dosso il saracino e lui tre volte e quattro appoggia e ad orza piegar per gire in terra capochino e la spada egli ancora avria perduta se legata alla man non fosse suta avea marfisa mandricardo intanto fatto sudare la fronte il viso il petto ed egli aveva lei fatto altrettanto ma silus bergo d'ambi era perfetto che mai poter falsarlo in nessun canto e stati erano sin qui pari in effetto ma in un voltare che fece il suo destriero bisogno ebbe marfisa di Ruggero il destriero di marfisa in un voltarsi che fece stretto ovvero molle il prato sdrucciolò in guisa che non potea aitarsi di non tutto cadere sul destro lato e nel volere in fretta rilevarsi da brigliador fu bel traverso urtato con che il pagan poco cortese venne sicché cadere di nuovo gli convenne Ruggero che la donzella ha malpartito vide giacer non differì il soccorso perché la gionavea poiché stordito da se lontan quell'altro era trascorso ferì sull'elmo il tartaro e partito quel colpo gli avria in capo come un torso se Ruggero balisarda avesse avuta un mandricardo in capo altra barbuta il re d'Alger che si risente in questo si volge in turno e Ricciardetto vide e si ricorda che gli fu molesto di anzi quando soccorso Rugger diede a lui si drizza e sarei stato presto a dargli del benfare aspra mercede se con grande arte e nuovo incanto tosto non se gli fosse Malagigi opposto Malagigi che sa ad ogni Maria quel che ne sappia alcun mago eccellente ancor che il libro suo seco non sia con che fermare il sole era possente pur la scongiurazione onde solia comandare i demoni aveva a mente tosto in corpo al ronzino un ne costringe di d'oralice ed in furor lo spinge nel mansueto Ubino che sul dosso avea la figlia del resto ordilano fece entrare un degli angel di minosse sul comparole il frate di viviano e quel che di anzi mai non si era mosso se non quando ubidito avea la mano ordimprovviso spiccò in aria un salto che trenta pie fu lungo e sedici alto fu grande il salto non però di sorte che ne dovesse alcun perder la sella quando si vide in alto gridò forte che si tenne per morta la donzella quel ronzin come il diavol se lo porte dopo un gran salto se ne va con quella che pur grida soccorso in tanta fretta che non l'avrebbe giunto una saetta dalla battaglia il figlio di l'Ulieno si levò al primo suon di quella voce e dove furiava il palafreno per la donna aiutar andò veloce ma Andricardo di lui non fece meno né più a Rugger né più a Marfisa noce ma senza chieder loro o paci o tregue e Rodomonte e Doralice segue Marfisa intanto si levò di terra e tutta tardendo di disdegno e d'ira crede si far la sua vendetta e terra che troppo lungi il suo nemico mira Rugger caver talfin vede la guerra rugge come un leone non che sospira ben sanno che frontino e brigliadoro giungero da un ponno coi cavalli loro Rugger non vuol cessar finché decisa corred alger non labbia del cavallo non vuol quietare il tartaro marfisa che provato a suo senno anco non hallo lasciar la sua querela a questa guisa parrebbe all'uno e all'altro troppo fallo di comune parer disegno fassi di chi offesi gli avea seguire i passi nel campo saracin li troveranno quando non possa ritrovarli prima che per levar l'assedio iti seranno prima che re di Francia il tutto prima così direttamente se ne vanno dove averli a man salva fanno stima già non andò Rugger così di botto che non facesse i suoi compagni motto ruggersene ruggersene ritorna uve indis parte ed è il fratel della sua donna bella e se gli proferisce in ogni parte amico per fortuna è buona e fella indi lo priega e lo fa con bella arte che saluti il suo nome la sorella e questo così ben gli venne detto che ne a lui di e agli altri alcun sospetto e da lui da Vivian da Malagigi dal ferito al diger tolse commiato si proferiron anch'essi agli servigi di lui debitor sempre in ogni lato marfisa aveasi il cor dire a parigi che il salutare gli amici avea scordato ma Malagigi andò tanto e Viviano che pur la salutaron di lontano e così Ricciardetto ma al digero giace e convien che suo malgrado resti verso parigi avean preso il sentiero quelli due prima e tor lo piglian questi dirvi signor nell'altro canto spero miracolosi e sopraumani gesti che condanno degli uomini di Carlo ambe le coppie fer di chi vi parlo di lontano di lontano di uo di lontano Grazie a tutti.